Due incidenti e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, è il bilancio dell'ennesima mattinata difficile sulle strade della marca. Intorno alle 6.30, il primo sinistro a San Fioro, dove un'auto è finita nel plateatico di un bar. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sembra che la vettura, prima di terminare la sua corsa tra i tavolini del locale, sia stata tamponata da un altro mezzo. Due le persone rimaste ferite, un avventore del bar di 35 anni e un quarantenne che era al volante della macchina. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Due ore più tardi, intorno alle 8.40, a Castelfranco, lungo la circonvallazione Est, un altro incidente che ha visto coinvolti un camion e una bici, condotta da una cicloturista tedesca di 68 anni. Gravi le lesioni riportate dalla donna in tutto il corpo, soprattutto ad una gamba. La ciclista è stata trasportata con l'elicottero del SUEM al caffoncello di Treviso, per lei la prognosi rimane riservata. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, spetterà la polizia locale di Castelfranco a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Conseguenze sicuramente meno gravi, invece, per un autobus che stamattina, percorrendo il sottopasso di via Veniera a Treviso, ha raschiato tutta la parte superiore. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per le verifiche del caso.